Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Prima della trasmissione intanto vi ricordo l'incontro, il dibattito che teniamo qui a Radio Gama 5 che è per sabato 28 gennaio alle ore 20 e 30 e riguarda il giudizio di necessità. Con il giudizio di necessità nel ciclo di dibattiti siamo già entrati nel sistema sociale e il giudizio di necessità è un elemento fondamentale della stregoneria perché ci permette di vivere ben consapevoli che i giudizi che diamo, le definizioni, le descrizioni, le idee che abbiamo in realtà sono tutte relative cioè sono tutte il frutto del nostro divenuto e delle nostre trasformazioni ma il giudizio di necessità ci permette di non fissarci, cioè ci permette di non diventare fossili cioè di non fissare la nostra attenzione, le nostre idee in un ambito chiuso, in un ambito definito e ci permette di essere sufficientemente agili e sufficientemente dinamici per variare anche le idee, per variare il giudizio, per variare il nostro modo di descrivere il mondo ogni volta che si presenta a noi qualche cosa di nuovo e qualche cosa di diverso ed è l'applicazione del giudizio di necessità in stregoneria è fondamentale perché ci lascia la mente aperta a qualsiasi modificazione uno dei problemi che ha chi pratica stregoneria in realtà è una specie di ipersensibilità che acquisisce rispetto ai fenomeni del mondo e una ipersensibilità di reazione emozionale dovuta a proprie intuizioni soggettive per cui a volte chi pratica stregoneria non sa perché ha delle azioni o delle reazioni cioè non è razionalmente definibile il motivo per cui si hanno delle azioni in realtà noi sappiamo che esiste un immenso fuori di noi ed esiste un immenso dentro di noi che anche se noi lo escludiamo dalla nostra ragione, dalla nostra descrizione in realtà tutto quello immenso è portatore di fenomeni sia dall'esterno che vengono verso di noi sia di nostre tensioni che da noi vanno verso l'esterno per cui il giudizio di necessità diventa un mezzo con cui un individuo che un individuo assume per affrontare al meglio quelle che sono le contraddizioni della propria esistenza pertanto il dibattito lo terremo il giorno 28 gennaio, sabato presso la sede di Radio Gama 5, sala di battiti alle ore 20.30 una persona telefonando subito dopo la prima trasmissione mi ha chiesto ma non staremmo meglio a vivere senza politica e senza religione io capisco che davanti alle difficoltà della vita viene voglia di mandare tutta all'aria però non possiamo vivere senza politica come non possiamo vivere senza religione perché? perché la politica è il modo con cui gli uomini si relazionano all'interno di una società all'interno della loro società all'interno della società nella quale vivono pertanto il termine politica al di là delle valenze che per ogni soggetto assume non è altro che l'insieme delle dinamiche che percorrono una società per cui che coinvolgono anche noi stessi il problema è che gli uomini non sono attrezzati per affrontare le dinamiche politiche che esistono nel proprio corpo sociale o non sono attrezzati a sufficienza o sono attrezzati per degli scopi che magari creano anche più problemi ma non possiamo vivere senza politica a meno che non si vada a vivere come degli eremiti sul monte Everest e non si abbia rapporti con nessuno e allora magari si ha la politica con se stessi e non possiamo vivere senza religione perché la religione anche se so che nella testa delle persone assume la connotazione della religione monoteista cioè di ciò che gli ha insegnato i cattolici in realtà la religione non è altro che il legame che l'uomo ha col mondo in cui vive ma non solo col mondo sociale che fa parte della politica ma col mondo della natura col mondo delle specie con il pianeta con tutta la sua storia evolutiva che va da quando è uscito dal brodo primordiale fino ad oggi per cui noi non possiamo distaccarci dalla vita cioè noi non possiamo chiamarci fuori dall'umana esistenza noi siamo ciò che siamo perché abbiamo avuto una trasformazione quando quell'imbecille di Ratzinger viene a dire che Dio ama la vita fino all'embrione bene l'inizio della vita è comune a tutte le specie del pianeta per cui tutte le specie del pianeta sono attraversate dalle stesse passioni dalle stesse tensioni evolutive di trasformazione e di adattamento pertanto non possiamo negare noi stessi e le nostre stesse forze della vita per cui la religione in realtà non è altro che la manifestazione delle forze della vita e dei legami e delle relazioni che noi costruiamo col mondo della vita in funzione della vita sia della nostra vita che la vita in se stessa pertanto non possiamo negare la religione cioè soltanto accettando il termine marxiano cioè la religione e l'oppio dei popoli nel senso che le religioni monoteiste tendono a distruggere e mettere in ginocchio i popoli perché questo è il senso delle affermazioni marxiane possiamo accettare di negare la religione cioè neghiamo quella religione neghiamo quelle strutture religiose ma non possiamo negare il concetto religioso so benissimo che in altre culture il termine religione come lo uso io viene dato vengono dati degli altri nomi vengono definiti in maniera diversa però il termine religione in occidente sta a significare questo che poi cicerone, lattanzio e altri si scanino per dare il giusto significato del termine questo è un altro discorso però il termine religione è il legame che noi abbiamo con tutte le forze dell'evoluzione se vogliamo la visione più becera materialista che esista nella vita è proprio il creazionismo cioè il creazionismo è la forma materialistica più squallida bassa che esiste nella concezione umana voi pensate che è talmente materialistica e squallida che ciò che è importante dell'uomo è la forma cioè la forma data dal dio padrone cioè per cui è proprio la roba più bassa che esista ed è la forma di materialismo quando si parla di materialismo in termini grezzi in termini squallidi ci si riferisce in realtà al cristianesimo non è niente a che vedere col materialismo storico dialettico marxiano oppure con la teoria della dialettica di Hegel quando noi pensiamo al materialismo grezzo proprio il materialismo quello è anche offensivo o al meccanicismo noi pensiamo al cattolicesimo perché questa è la visione del cattolicesimo tutto il resto non ha niente a che vedere con la materialità la forma per cui noi non possiamo vivere senza religione come non possiamo vivere senza politica dopo esiste un modo per fare religione ed esiste un modo per fare politica cioè esiste un modo per legarci al mondo per essere all'interno del fiume della vita ed esiste un modo per relazionarci con gli uomini uno si chiama religione l'altro si chiama politica bene l'argomento di questa sera proprio partendo da religione e politica è indicazione sempre dal punto di vista del paganesimo politeista di ciò che è male ciò che è cattivo ciò che è brutto ciò che un pagano politeista non vuole mai vedere e voi sapete che noi come pagani politeisti per noi gli dei sono relativi cioè nel senso che gli dei si trasformano in continuazione divengono ma si manifestano se stessi all'interno delle condizioni dell'esistenza sia l'esistenza umana sia che questa ricade all'interno del descritto della ragione sia che sia il di fuori della ragione ciò che è intollerabile per un pagano politeista è la definizione di un dio assoluto di una gerarchia assoluta di una gerarchia per volere di dio nessuno nega che serva un presidente della repubblica nessuno nega che serva un parlamento ma il presidente della repubblica o un parlamento sono degli organi in trasformazione sono degli organi relativi ebbene ciò che un pagano politeista abborrisce è l'assoluto davanti al quale si piegano gli individui cioè si piegano i tempi e i modi di trasformazione dei soggetti in questo caso degli esseri umani questo è una cosa che un pagano politista non può tollerare e vediamo come il monoteismo ottiene tutto questo ed è il titolo del pezzo che vi faccio è la dottrina dell'arbitrio assoluto del padrone e dunque l'autoassoluzione della chiesa cattolica per le proprie malvagità gli anticlericali imparino per piacere le colpe si applicano agli altri non a se stessi le regole morali si impongono agli altri e non a se stessi vi ricordate il Dio padrone il pazzo di Nazareth cosa dice voi dovete amare i vostri nemici attenzione dice il pazzo di Nazareth voi dovete amare i vostri nemici e con questo ogni amico del pazzo di Nazareth dice io amo i miei nemici ma combatto i nemici del mio pazzo di Nazareth e quelli che sono nemici del mio pazzo di Nazareth io li devo combattere e non amare ma ognuno ha la sua visione del proprio pazzo di Nazareth e dunque si possono combattere a vicenda pensate a questa logica che è una logica teologica roba da pazzi però funziona in questo modo la chiesa cattolica si ritiene al di fuori delle regole morali come il Dio padrone che secondo la chiesa cattolica non può essere processato per i delitti che ha commesso o che millanta di aver commesso ricordate noi lo chiamiamo il macellaio di Sodome e Gomorra che la magistratura lo processi per delitto si è appena conclusa la vicenda del governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio il governatore si è dimesso che la magistratura lo processi per delitto o non lo processi per delitto è assolutamente irrilevante è importante che noi osserviamo come questo personaggio considerasse se stesso creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone e come tale ritenesse di commettere tutta una serie di atti convinto di ottenere un'impunità esattamente come il Dio padrone di cui egli si riteneva immagine proviamo a leggere sul quotidiano la Repubblica dell'8 settembre 2005 l'inizio dell'articolo titolato il Vaticano va in soccorso di Fazio attacchi pesanti ed inopportuni a firma di Orazio la Rocca città del Vaticano pesanti ed insistenti pressioni e attacchi inopportuni dopo giorni di apparente indifferenza l'osservatore romano scende apertamente in campo in difesa del governatore della Banca d'Italia il cattolicissimo Antonio Fazio con un servizio che sprizza furore e sdegno fin dal titolo e dalle prime righe dell'articolo nel numero oggi in edicola il giornale della Santa Sede diretto da Mario Agnes pubblica nella pagina di Politica Italiana un servizio che suona come una decisa presa di posizione proclamata per salvaguardare l'immagine e il ruolo del governatore un atteggiamento tutto nuovo rispetto al sostanziale apparente distacco con cui finora l'osservatore aveva seguito il tormentato caso Fazio evidentemente qualcuno in curia ha deciso che è arrivato il momento che il giornale del Papa esprima urbi e torbi il grande disappunto con cui al di là del Teveri cardinali vescovi e altri prelati stanno seguendo le polemiche esplose intorno alla Banca d'Italia questo è l'inizio dell'articolo impunibilità del cattolico amico e complice dell'organizzazione criminale chiamata Opus Dei e successore di Lamberto Dini che non era del tutto cattolico sponsorizzato dal Vaticano come San Paolo diremo anche noi che diremo dunque che c'è ingiustizia in Fazio no certo sua figlia si è fatta suora cattolica con dispiego di telecamere e protezione della polizia di stato ed è la malattia dell'impunità per i delitti commessi uno dei peggiori atti di devastazione istituzionale messo in essere dai cristiani essi non si ritengono parte della società civile ma si ritengono superiori ad essa al di fuori di essa al di sopra di essa i cristiani pretendono di non essere perseguitati per i delitti che commettono sia in Italia che in Cina o negli USA commettere delitti nei confronti della società civile per i cristiani significa esprimere poter esprimere la loro libertà religiosa citiamo da Paolo di Tarso Romani 9 14 24 che diremo dunque che c'è ingiustizia in Dio no certo egli disse infatti a Mosè farò misericordia a chi voglio fare misericordia e avrò pietà di chi voglio avere pietà dunque non dipende da colui che vuole né da colui che corre ma da Dio che usa misericordia infatti la scrittura dice a Faraone a questo scopo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia celebrato su tutta la terra quindi egli usa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole ma tu dirai e allora perché rimprovera chi può resistere alla sua volontà o uomo chi sei tu che vuoi discutere con Dio c'è un inciso fatto da me veramente io stavo discutendo con te che stai facendo queste affermazioni demenziali è una nota mia Claudio Simeoni chiudo o uomo chi sei tu che vuoi discutere con Dio il vaso d'argilla dirà forse a chi lo formò perché mi hai fatto così il vasaio non ha forse piena disponibilità sull'argilla così da fare nella stessa massa un vaso per suo utile o un altro per suo vile se Dio volendo mostrare la sua collera e far conoscere la sua potenza sopportò con grande pazienza vasi di ira già pronti per la spedizione e per far conoscere la ricchezza della sua gloria fra i quali ha chiamato anche noi non solo fra i giudei ma anche di fra i gentili di che possiamo obiettare questa è l'affermazione di Paolo di Tasso usata dalla Chiesa Cattolica 9.14.24 è il discorso sul fondamento etico del cristianesimo che riprende quello che Gesù fa nel Vangelo di Marco a proposito della richiesta dei figli di Zebedeo prima di rispondere alla loro richiesta li ricatta voi non sapete quello che chiedete potete cioè Gesù ricatta i figli di Zebedeo voi non sapete quello che chiedete potete voi bere il calice che io berrò o ricevere il battesimo con cui io sarò battezzato Marco 10.38 poi quando essi rispondono affermativamente il Dio dei cristiani il Gesù di Nazareth non è in grado di rispettare nessun accordo voi si berrete il calice che io berrò e riceverete il battesimo con cui io sarò battezzato però quanto a sedere a sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me il concedervelo ma è per coloro per i quali è preparato Marco 10.39 questo dimostra la disonestà morale e dottrinale sia di Gesù di Nazareth che dell'estensore del Vangelo una disonestà che diventa concetto morale fondante il cristianesimo se la richiesta era inesaudibile avrebbe potuto notificare loro immediatamente l'impossibilità di esaudirla perché ricattarli è come la chiesa cattolica che vende le induggenze per il paradiso quando la sua dottrina afferma che non sono le opere che conducono al paradiso ma la misericordia o il sadismo con cui il suo dio esercita il suo libro arbitrio il concetto di arbitrio assoluto della chiesa della gerarchia nei confronti del più debole è il concetto etico fondante il cristianesimo e possiamo farlo risalire a quando quegli ebrei deportati a Babilonia elaborarono i primi tre libri della loro Bibbia fin dalla Genesi il padrone assoluto degli ebrei e dei cristiani non ammette limiti ed è pronto a commettere qualsiasi crudeltà pur di garantirsi il dominio di chi non si può difendere ecco l'uomo è diventato come uno di noi avendo la conoscenza del bene e del male che non stenda ora la sua mano e colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno Genesi 3 22 da qui la novità storica del cristianesimo che ha introdotto nel sistema sociale umano lo schiavismo per volontà e determinazione del suo dio certo la schiavitù esisteva prima dell'avvento del cristianesimo ma solo il cristianesimo ha trasformato quella condizione sociale in manifestazione della volontà del proprio dio gli esseri umani sono costretti a pensare che le ingiustizie che subiscono ad opera del dio dei cristiani e dei suoi rappresentanti devono essere intesi come determinazione del dio atti di misericordia del vasaio che li ha trasformati in vasi senza il diritto di discernere sul proprio destino gli atti malvagi dei cristiani e gli atti meritevoli non sono condannati o premiati dal dio dei cristiani in quanto nessuno attraverso i propri atti si deve permettere di condizionare le libere scelte del dio padrone il dio padrone stabilisce dei patti che puntualmente rompe in maniera assolutamente arbitraria colpevolizzando chi ha sottoscritto il patto con lui un esempio atroce viene fatto da Gesù nel racconto su il fariseo e il pubblicano Luca 19 9 il dio padrone ha stabilito delle regole di vita regole dure e il fariseo ringrazia perché è riuscito a rispettare tali regole il pubblicano non lo ha fatto e si pente di ciò la morale di Gesù è il disprezzo per il fariseo e l'esaltazione del pubblicano perché perché il fariseo col suo comportamento può chiedere al dio padrone di rispettare il patto che ha sottoscritto mentre il pubblicano non può farlo perché ha violato il patto così facendo il fariseo si eleva al rango del dio padrone mentre il pubblicano si abbassa e accetta l'umiliazione che il dio padrone vuole o può infliggergli ed è questa possibilità di umiliare il pubblicano che porta Gesù ad esaltarlo è roba sua col pubblicano può esercitare il proprio sadismo come vuole quando vuole e perché lo vuole col fariseo è costretto a rispettare il patto nella concezione del diritto moderno le pene del pubblicano sarebbero state condanne a sei mesi di reclusione non certo al sadismo delle fiamme eterne e dei tormenti per far divertire i santi in paradiso si perché se voi non lo sapete le pene eterne sono fatte per divertire i santi in paradiso fra le altre cose c'è anche questo nel cattolicismo la dottrina del padrone indiscusso che non deve sottostare a nessuna legge a nessuna regola è proprio del monoteismo nell'antica religione greca esiste l'episodio di Apollo che uccide Marsia in maniera anche abbastanza vigliaca Apollo viene punito dagli dei e nessuno ha mai pensato di usare in modo positivo l'atto di Apollo l'atteggiamento di Apollo nei confronti di Marsia al contrario quell'episodio quell'atteggiamento serviva a censurare un comportamento che meritava una punizione i monoteisti fanno dell'arbitrio con cui il loro dio padrone ha massacrato gli abitanti di Sodoma e Gomorra un esempio con cui terrorizzare gli esseri umani con le pene che il loro dio padrone infliggerebbe a chi non obbedisce a lui e ai suoi rappresentanti l'ideologia che prende corpo dalle affermazioni di Paolo di Tarso è che i mali che affliggono il mondo sono le pene per i peccati inviate dalla volontà del suo dio paura e peccato vanno di pari passo con le pene inflitte dal dio padrone dove la pena viene inflitta sia ora che dopo mentre il premio è dato solo dopo il peccato viene imposto attraverso la paura e la paura si impone mediante la distruzione delle condizioni di vita delle persone proviamo a leggere qualche passo dal libro Il peccato e la paura di Jean Delumont edizione Il Mulino le nostre colpe sono tali e così numerose da averci meritato ogni tipo di castigo confessate intima il chenoise ai contadini che le vostre disgrazie vengono solo dalle vostre dissolutezze e dai vostri atti impuri il che poi egli dimostrava in tre punti uno i peccatori sono dei morti vivi due i peccatori sono animali condotti dalle passioni tre i peccatori sono dei diavoli incarnati Filippo D'Ultremont invitava lettori e ascoltatori a meditare sui grandi mali che abbiamo fatto e su quelli che abbiamo meritato anche se avessimo commesso un solo peccato la maestà di Dio che ne è rimasta disonorata è talmente grande che non ci sono al mondo castighi abbastanza gravi che le possono rendere una legittima soddisfazione non c'è mal della pietra non c'è gota non c'è peste non c'è carestia che possa degnamente riparare un'offesa fatta a Dio per quanto leggera esa sia si comprende quindi il consiglio di Pierre De Font esagerate piuttosto che sminuire le vostre colpe tale invito alla ipercolpevolizzazione ci dà ragione anche di certe strofe dei canti sacri fatti cantare durante le missioni in cui i peccatori convertiti ammettono di aver meritato i supplici dell'inferno e fin troppo felici per esservi sfuggiti invocano su di sé castighi terreni proviamo a leggerne uno di questi ho fin troppo meritato il mio supplizio un inferno è troppo poco per me poiché è infinito il mio reato non posso essere punito a sufficienza un sangue come il mio è poco e per placare Dio ci vuole il suo sangue di Gesù o Dio non aver più indulgenza colpisci colpisci nella tua clemenza mentre soffrite i vostri dolori pensate le vostre offese meritate dal Signore le vendette eterne e siete fin troppo fortunati di poter placare con le vostre pene il vostro furore gli alunni dei fratelli delle scuole cristiane cantavano troppo leggere grandio sono le mie pene raddoppiate i colpi l'anima che non segue lo sposo ben presto si corrompe e il parroco reguise assumendo voce e ruolo del pecatore che si pente esclama in una sua predica colpite grandio colpite spogliatemi dei beni rovinatemi la salute moltiplicate le mie afflizioni tagliate bruciate non risparmiatemi nulla quaggiù a patto che le mie iniquità siano cancellate e che mi usiate misericordia nell'altra vita fine delle citazioni questo è ridurre le persone all'impotenza nella loro capacità di affrontare la loro esistenza sia mediante la gerarchia sociale sia mediante la privazione di diritti ma soprattutto attraverso l'afflizione psichico emotiva così le persone vengono convinte che la polmonite che hanno non è un attacco di batteri ma una punizione divina per i peccati così si evita di cercare una cura o di cercare delle soluzioni contro la polmonite perché il dio padrone dei cristiani può secondo i cristiani scegliere chi far morire o chi far guarire si compiace il dio padrone dei cristiani delle sofferenze delle persone e le persone per compiacere il dio padrone dei cristiani venivano indotte ad evocare a supplicare le sofferenze per compiacere ulteriormente al loro dio padrone era la manifestazione dell'assoluto annientamento dell'essere umano nella volontà di possesso del loro padrone annientavano la loro vita pur di compiacere al loro padrone proviamo a leggere qualche verso della supplica di Jacopone da Todi che nella metà del XIII secolo veniva elevato a modello di santità ho messo poche frasi sono frasi in volgare del 1300 io vi dico alcune delle cose che Jacopone da Todi supplicava per se stesso da dio però ho messo soltanto cinque frasi perché è una cinquantina di frasi e da Jacopone da Todi è oh signor per cortesia e dice oh signor per cortesia manna me la maessania sarebbe la lebra a me la fevere quartana la contina e la terzana la doppia quotidiana con la grande etropesia a me venga mal dei denti mal dei capo mal dei ventre e lo stomaco dolor ponienti e non canna la squinziana la squinanzia mal degli occhi e doglia de fianco e la postema del canto manco ti seco la tisi me iorga e in alco e donne tempo la fernosia hai al fegato riscaldato la milza grossa il ventre è ingolfiato lo polmone si è piegato con gran tosse e paralisia cioè paralisia cioè paralisi in pratica questo Jacopone da Todi evocava tutto questo credo che gli studenti dei licei classici ogni volta che si legano a Jacopone da Todi questa in particolare si toccano le parti basse a modo scongiuro e davanti e avanti in questo modo per una cinquantina diverse di invocazioni solo che quest'oro non lo invocano solo per se stessi ma lo estendono a modello da imitare a tutta la società civile mettendo in atto una vera e propria guerra civile contro lo sviluppo della medicina che guarendo quanto il loro Dio padrone mandava impediva la società civile di giungere alla santità beh qualcuno lo ha sentito anche in occasione dello tsunami dello scorso anno che era una punizione di Dio per i peccati degli uomini così la condizione di miseria la condizione sociale è determinata del Dio padrone e non accettare la propria condizione significa andare contro la volontà del Dio padrone fu solo quando qualcuno elaborò il concetto che anche andare contro la propria condizione sociale era la volontà del Dio padrone che iniziarono le ribellioni all'autocolpevolizzazione così Paolo di Tarso costruì la miseria perché costruire la miseria era la volontà del Dio padrone ci furono sommosse sociali perché era la volontà del Dio padrone ci fu un'altra costruzione della miseria perché era la volontà del Dio padrone la miseria venne esportata attraverso il colonialismo perché era la volontà del Dio padrone popoli macellati popoli in rivolta tutto per la volontà del Dio padrone di punire le persone per i loro peccati è sempre qualcuno che si fa spada del Dio padrone o caro armato sempre qualcuno che ha il Dio padrone dalla sua parte e che deve muovere guerra a qualcun altro per fargli pagare i peccati che ha commesso nei confronti del Dio padrone è il Dio padrone di Paolo di Tarso che ci si diverte tre sono i sistemi ideologici con cui i cristiani risolvono le loro incongruenze dottrinali uno qualunque cosa faccia l'uomo il Dio padrone fa quello che vuole le azioni dell'uomo non possono condizionare le scelte del Dio padrone pertanto anche se ti comporti bene puoi essere condannato in quanto il tuo comportamento il tuo comportarti bene inteso nel rispetto delle regole imposte dal Dio padrone è atto di arroganza nei confronti del Dio padrone tre due scusate se l'uomo si comporta male inteso come violazione delle regole imposte dal Dio padrone sa di essere condannato per aver violato le regole ma la misericordia del Dio padrone lo può assolvere tre non è la chiesa cristiana che non è la chiesa cristiana che rispetta le regole del Dio padrone ma le regole dettate dalla chiesa cristiana sono le regole del Dio padrone e il Dio padrone stabilisce quanto la chiesa cristiana cattolica in particolare ha deciso questi tre elementi sono fondamentali per riuscire a capire il cattolicesimo da questo deriva l'attività delle chiese cristiane e di quella cattolica in particolare di distruzione della possibilità degli individui di affrontare la loro vita e per contro l'appropriazione da parte della chiesa cattolica del controllo di tutti quegli strumenti che possono condizionare dirigere obbligare le scelte dei singoli nella loro esistenza questi strumenti sono diversi da situazione oggettiva a situazione oggettiva da sistema culturale a sistema culturale da società a società la distruzione della struttura psichico-emozionale viene praticata dalla chiesa cattolica con meticolosa attenzione tentando di convincere gli individui di essere dei veri e propri ricettacoli del male della perversione in pratica la chiesa cattolica tende a convincervi che voi siete delle cloache delle tamai un cuacervo di fogna proviamo a leggere sempre da il peccato e la paura di Jean Delumont edito del mulino tuttavia sono sempre pezzi presi da predicatori contro i peccati eh tuttavia Francesco da Tolosa aveva il vezzo di dare con una mano quello che poi ritraeva con l'altra e anche qui fa lo stesso è arduo precisa il nostro cappuccino stabilire se un peccato è mortale o veniale non andare a messa la domenica è peccato mortale ma chiacchierare durante la messa è un peccato mortale o veniale commettere un atto disonesto con una donna è peccato mortale ma toccare le mani dare o ricevere baci sono peccati veniali non è facile stabilirlo ogni modo il Dio punisce fin da questa terra i peccati veniali un profeta per una colpa leggerissima che non poteva andare oltre i limiti del peccato veniale fu per castigo divorato dai leoni così ma tutti questi castigli anche se grandissimi è di tal rigore da farci conoscere l'enormità del peccato veniale e quanto esso dispiace a Dio non sono solo altrettanto gravi rispetto ai castigli con cui Dio lo punisce nell'altro mondo è allora che gli peserà come dice il profeta non solo le montagne ma anche le piccole colline non solo i grandi peccati ma anche i piccoli peccati veniali allora che bisognerà rendere conto di quella parola futile di un atto di trascuratezza di una risata di uno sguardo sconsiderato di una parola di un moto d'ira che ci è sfuggito e che è subito svanito sarà nel non messo senza ritegno ci comparirà davanti ci incuterà terrore e sembreranno essere grandi montagne tratto da una predicazione di Francesco D'Atolosa L'Emissionaire Apostolic la logica di una simile maggiorazione drammatica portava dritto all'esame di coscienza del peccato veniale che già in San Leonardo da Porto Maurizio invitava caldamente a praticare durante le sue missioni infatti il predicatore consigliava ai penitenti di esaminare uno se essi avessero sempre avuto la giusta cognizione del peccato veniale due se essi sapessero quale valore ogni peccato veniale infatti non è in alcun caso permesso di compiere tre se essi avessero ben ponderato la malice intrinseca ad ogni peccato veniale per l'espiazione del quale necessario ricorrere al sangue prezioso di Gesù Cristo quattro se essi avessero mai soppesato le conseguenze nefaste che talvolta comporta un peccato veniale cinque se essi avessero mai cercato il rimedio più efficace del grande numero di peccati commessi ogni giorno sei se essi avessero mai riflettuto intorno alla possibilità che un peccato veniale sia mortale in una forma di volta in volta diretta o indiretta sette se essi avessero mai pensato la severità con la quale Dio punisce i peccati veniali otto se di fatto essi avessero mai usato un rimedio efficace per liberarsi dei peccati veniali tratto da San Lorenzo da Porto Maurizio prediche questo esame di coscienza sul peccato veniale proposto da un predicatore famoso del settecento deve essere ricollocato all'interno di un più vasto insegnamento ecclesiastico che tendeva di percolpevolizzare i fedeli le prediche abbondano di espressioni che vanno in questo senso così il Bridain suggerisce ai propri ascoltatori di mettersi a contare i loro peccati veniali contateli se vi è possibile ne restereste sorpresi anzi spaventati e gridereste come Davide che il numero di vostri peccati supera il numero di capelli che portate in capo Salmo 4013 sì per poco che rinvanghiate il fondo della vostra coscienza troverete che essa è un baratro un abisso un mare vasto immenso pieno di tanti rettili di tanti insetti voglio dire di peccati veniali che la loro moltitudine è per così dire infinita Salmo 10425 tratto da Bridein Sermons predica sul peccato veniale che schifo che fanno i cattolici tutto questo avete nella testa inciso mio la predicazione cattolica ha di continuo affermato opponendosi a protestanti e jansenisti scusate che la tentazione non è peccato ma poi ha altrettanto esplicitamente dichiarato con Givan che le tentazioni non sono una scusa per il peccatore ah ah mi ha fregati il motivo del cristiano senza scusa riescheggia spesso nell'insegnamento pastorale tutto tratto dal peccato e la paura di Jean Delumont edizione Il Mulino è un piccolo libro è un tomo di circa mille pagine ed è stato edito da Il Mulino nel vediamo un attimino chi trova la data nel 2000 pertanto non è neanche vecchissimo ed è l'idea di colpa in occidente fra il XIII e il XVII secolo mille pagine di dati se le pecole del greggio i cristiani vengono terrorizzati e condizionati emotivamente per essere predisposti ad essere terrorizzati per contro la chiesa cattolica non ha mai sbagliato e secondo le sacre scritture non sbaglierà mai dictatus pape da qui la necessità da parte della chiesa cattolica di appropriarsi degli strumenti per impedire alle bestie terrorizzate del suo greggio di trovare scuse o peggio ancora di mettere sotto accusa la chiesa cattolica prenditela con i fanti ma lascia stare i santi è un moto che riecheggia imposto con tutta la sua violenza della chiesa cattolica così i santi non devono essere messi in discussione tantomeno la chiesa cattolica che è santa non ci si processa il pazzo di Nazareth che ha fondato la chiesa cattolica e tantomeno si colpevolizza il suo dio il macellario di Sodoma e Gomorra il criminale che ha mandato il diluvio universale per le sue malvagità e così Paolo di Tarso afferma ognuno si è soggetto alle autorità superiori poiché non c'è autorità che non venga da Dio e quelle che esistono sono costruite da Dio Romani 13 1 ed è bene a questo punto ricordarci come la costituzione della Repubblica italiana manifesti principi ben diversi dal cattolicesimo principi che si sono forgiati contro l'assolutismo e il dispotismo del Dio padrone del pazzo di Nazareth applicato dalla chiesa cattolica alla società civile e ricordiamocelo articolo 2 della costituzione della Repubblica italiana la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale certamente la Repubblica non è il Dio padrone dei cristiani ma nella costituzione della Repubblica c'è la manifestazione della dignità dell'uomo nelle manifestazioni del Dio dei cristiani del pazzo di Nazareth della chiesa cattolica c'è solo l'odio per la vita e per la società civile dalla quale la chiesa cattolica il pazzo di Nazareth il macellario di Sardome Gomorra pretendono impunità per i loro delitti e questo è il pezzo vi ricordo che questo pezzo è stato tutto caricato su internet e lo trovate al sito www.federazionepagana.it ed è il secondo pezzo completo che vi faccio di studio su Paolo di Tarso che vi faccio in trasmissione l'altra volta vi ho fatto il pezzo di Paolo di Tarso e il disprezzo per la donna e il disprezzo per il piacere no? ho un altro pezzo che è pronto e sarebbe il secondo il primo pezzo che non ho fatto per radio e vediamo un attimino se lo trovo si ed è l'uso militare della carità cristiana è un pezzo che ho già partendo Paolo di Tarso praticamente Paolo di Tarso è l'uso militare della carità cristiana ed è un pezzo che ho già messo su internet l'ho trovata sempre al sito di qui sopra ma che penso che allungherò parecchio perché mi sono arrivati nuovi dati perché è importante questo perché l'uso militare della carità cristiana cioè l'uso militare della carità è un uso che ne fa il cattolicesimo sia nella parte iniziale della propria nascita il cattolicesimo si basa praticamente cioè trova seguaci attraverso li compera li compera con le agape no? con i pranzi serali e trova seguaci fra ladri banditi delinquenti poveracci insomma cioè gente marginata della società con questo si rafforza e questo abbiamo le indicazioni sull'uso della carità queste indicazioni sull'uso della carità vengono spazzate via quando il cristianesimo diventa religione di stato ritornano dopo quando il cristianesimo comincia ad aggredire le società civili cioè da religione di uno stato comincia ad aggredire gli altri stati dove non è religione di stato e questi principi della carità cristiana messi in atto da Paolo di Tarso in pratica è ammassare carboni fare la carità per ammassare carboni accesi sulle persone cioè per bruciare vivere le persone questo è il concetto vengono utilizzati a livello missionario cioè in pratica per distruggere tutte le culture sia africane sudamericane asiatiche il cattolicesimo va al massacro e usa il sistema della carità proprio per distruggere la struttura culturale per distruggere gli uomini per distruggere nella storia per distruggere nella dignità per distruggere la società civile per cui questo questo l'uso della carità la troviamo adesso per esempio in tutta una serie di ordini missionari il cui compito degli ordini missionari è quello di distruggere la società civile creare miseria e distruggere la società civile per cui questo pezzo in realtà andrà andrà a essere modificato abbastanza parecchio degli altri pezzi invece sempre con Polo di Tarso è la diffamazione del matrimonio che troviamo in Polo di Tarso e abbiamo un ampio materiale in questo periodo che ci viene fornito proprio della Chiesa Cattolica il suo disprezzo il suo odio per il matrimonio il suo odio per la famiglia cioè noi abbiamo tutta una serie di dichiarazioni di Ratzinger tutta una serie di dichiarazioni di ruini che sono espressioni di odio per la famiglia e di odio per il matrimonio infatti vogliono il loro ma il matrimonio che vogliono loro non il matrimonio che vuole la società civile e l'altro elemento è l'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione cioè in pratica è la distruzione di tutta la propositività dell'uomo che viene indicata da Paolo di Tarso come un progetto di costruzione un progetto di divenire un progetto per formare il cristianesimo ecco praticamente sono questi cinque elementi ce n'è un sesto che verrà aggiunto sempre che mi ricordo di segnarlo ed è un'altra cosa che fa Paolo di Tarso in maniera veramente distruttiva ed è le affermazioni che il pazzo di Nazareth ha sottratto l'uomo alla legge ed è una cosa di un'aberrazione immane cioè in pratica sottrae i cristiani dall'obbedienza alla legge e anche questo è una cosa da elaborare da elaborare un po' a parte però dipenderà un attimino se avrò tempo o se avrò possibilità di farlo anche se penso che lo introdurrò come sesto elemento dello studio su Paolo di Tarso questo è il progetto che viene fatto adesso naturalmente questi pezzi torno a ripetere sono tutti su internet sono già stati lanciati anche in giro per internet sono già visitati ieri c'è stato un arrivo abbastanza pesante ci sono tutte una serie di elementi che vi possono anche servire per esempio ci sono citazioni dal Gallo Cantancora di Karl Dreschner come per esempio si insegna la perversione sessuale nei seminari cattolici è una cosa cioè effettivamente è una fortuna che Karl Heinz Dreschner sia stato un cappuccino cioè abbia potuto frequentare i seminari cattolici così ci può raccontare cosa succede all'interno quando si parla di sessualità o di peccati o di morale ed è una cosa veramente a mettersi le mani nei capelli dopo si capisce perché nei seminari cattolici sono stupri dopo si capisce cosa è successo a Vienna nei seminari cattolici bene 049 700 700 049 600 838 per 2 o 3 minuti se c'è la possibilità pronto ciao 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 ho scritto questo monoteismo è uguale staticità e quindi geometria limiti geometrici ci dà dei limiti geometrici specialmente la parola assoluto per me è un limite tremendo geometrico politeismo è uguale dinamismo movimento vita senza tempo indefinito quindi è indefinito il non tempo infatti non c'è una verità nel politeismo perché ogni verità è soggettiva capisci certo ma è la massima libertà e la non presunzione di dare una definizione a un indefinito non si può definire un qualcosa che è illimitato e che è fluttuante è in movimento non è statico mentre il monotelismo è staticità e quindi abbiamo bisogno del padrone assoluto e quindi ha dei limiti tremendi dentro quello di avere il padrone invece gli insiemi si compenetrano sì perché tu puoi scegliere no? bravo ma soprattutto si compenetrano ed è indefinibile dire questi hanno un limite no perché non si sa né da dove vengono né dove vanno questi invece hanno bisogno di dire è così così è così oh ma loro sono sicuri però certo ecco ciao 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 a tutti bene vediamo un ultimo secondo tre secondi per questa telefonata pronto ciao 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 allora sempre a proposito di religioni l'ultima diciamo schifezza che è capitata secondo me in questo paese cattolico che continua a fare le crociate verso i popoli arabi nel caso l'Iraq l'ultima cosa vergognosa è stata la dichiarazione del Presidente della Repubblica che ha detto tra l'altro mi era anche simpatico tutto sommato ma mi è andato in disgrazia purtroppo con questa affermazione che ha fatto non molto positiva secondo me che ha detto che appunto l'Italia è in Iraq dal momento in cui c'è la pasta praticamente lui in Iraq c'è la pasta ricordo che ci sono quotidianamente minimo secondo informazioni arabe 50 morti anche oggi ce ne sono stati 53 ieri altri 49 parlano di 100 feriti di cui oltre la metà gravissimi e questo si permette di dire che è una roba ridicola e io penso ma quanto coglioni siamo qui in Italia ti saluto ciao ciao scusate posso spendere una parola per il Presidente della Repubblica scusate un attimo mettetevi un attimino nei panni di questo personaggio che ormai deve recitare la sua parte cioè deve tenere la sua parte lui sa perfettamente che l'arrivo delle truppe italiane in Iraq è stata una violazione costituzionale ma non può andare a prendere il Parlamento andare a prendersi il governo e arrestarli per violazione della Costituzione purtroppo esistono anche i rapporti di forza politici e quelli sono i rapporti di forza politici sta tentando di salvare la forma purtroppo non ne può non può fare diversamente mettetevi un attimino a un certo punto quando dal cielo piove merda è necessario come diceva in quel film che qualcuno apre un ombrello piccolo o grande che sia queste sono le nostre condizioni di vita e qualche volta va onorato anche chi apre l'ombrello per ripararci da un po' di merda anche perché non sapete quanta merda c'è dietro la diga del Vaillant quanto si rompe ciao a tutti a risentirci a giovedì prossimo quanta la trasmissione magia stregoneria paganesimo io lascio a Stefano che eviterà una compagnia un po' più leggera della mia ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo quanta la trasmissione magia ah io non ci sarò a giovedì prossimo grazie a tutti